ciao rieccoci qui qui per presentarvi una nuova linea contrariamente a come accade di se di solito su questa linea la linea golf inizio dell'etichetta perché davvero bella credo che sia una delle etichette più belle mai prodotte da estro grazie sempre a francesco elisabetta dicevo questa linea un po particolare perché non avrà la crema da barba quindi avremo after shave crema idratante e un fluido dopo vi parlo del fluido perché non abbiamo la crema da barba semplicemente per un discorso prettamente economico come ho detto in altri video in altre occasioni il costo dei vasi in vetro i nostri vasi in vetro sono davvero elevatissimi poi parlando anche con gli amici eccetera diciamo che abbiamo una quantità di saponi davvero notevole non è detto che non faremo in seguito o se questa linea sarà gradita non metteremo in commercio anche una crema da barba però in questi momenti un po particolari diciamo così ho voluto provare a ritornare a fare quello che in pratica già si faceva con le strocce con una decina di anni fa cioè l'uscita prima del profumo dell'after shave e in seguito poi del sapone davanti vediamo se funziona o meglio io credo di sì golf l'emilia golf è una linea che già avevamo appunto diverso diverso tempo fa una linea che ricorda assolutamente il campo il green di golf sono un ex purtroppo un ex giocatore di golf solo ex perché non riesco più a aver tempo di andare a giocare questo questa questa linea ricorda assolutamente il campo quindi l'erba tagliata chi ha avuto l'opportunità di giocare a golf è una proprio delle caratteristiche immediate che si hanno nel momento in cui si si sale si va sulla sulla prima buca per iniziare a giocare questa erba tagliata questa erba tagliata non solo unita poi a quelle che sono le diciamo le caratteristiche di quel determinato campo in questo caso abbiamo riparo delle note di testa una nota erbacea quindi di erba di pino o meglio della resina del pino questi questo sapore abbastanza forte della resina nelle note di cuore abbiamo delle note fiorite perché nel campo dove andavo io a giocare particolarmente forte appunto queste questi fiori che costeggiavano tutto il tutti i campi di tutti i campi tutte le buche del golf club quindi rosa moghetto gelsumino nero lì e violetta nero lì perché ricorda c'era l'ho voluto aggiungere perché ricorda questa dei campi in meridione dove l'arancio il limone le fanno per la fanno per la maggiore note di fondo il fieno quindi ancora una nota erbacea verde fava tonka e duia come dicevo prima questa era già un consente che avevamo qualche qualche anno fa l'olende a voi qualcuno di voi probabilmente l'avrà i vecchissimi clienti già utilizzato after sale creme idratante attenzione del parfum creme idratante in più ho voluto fare solo per questa linea solo per questa occasione in edizione limitata quindi un fluido balsamico quindi fluido balsamico uguale ai fluidi estro in confezione da 30 ml che verrà dato in omaggio con il set due pezzi che potete trovare come sempre nella sezione offerta di estro un abbraccio spero di essere stato esoriente a presto ciao grazie a tutti